Ciao a tutti ragazzi e ragazzi bentornati sul mio canale questo sarà un video molto diverso perché andremo a vedere un sito archeologico di Peltuinum che si trova all'Aquila se partiamo da Fossa o dall'Aquila ci vogliono circa 27 minuti per arrivarci quindi diciamo che è un po' vicino allora qui ci sono appunto tutti i resti che ora li andremo a vedere meglio e da vicino e poi qui come potete vedere che è per leggere per capire meglio di che cosa si tratta cioè com'era il tempio perché appunto questo qui è un tempio era così ora andremo a vedere da vicino e poi lì vi farò vedere che c'è anche un teatro antico appunto allora scendiamo benissimo qui ci sono i resti diciamo proprio del tempio e qui c'è un muro che non è ancora stato ritrovato tutto intero non potete vedere però è stato ritrovato un bel pezzo di muro eccolo poi qui come potete osservare ci sono delle specie di blocchi delle specie di blocchi no? ci sono dei blocchi e questi qui mi sembra che erano i blocchi per le colonne no? per le colonne erano e restano tutto lungo questa fila e anche lì soltanto che poi li si abbassano un po' di più perché qua sono stati ritrovati bene intatti tutti i grani diciamo sono alti e qui si cominciano già ad abbassare come potete osservare ecco poi una curiosità che non lo so se voi la sapete io no ho trovato questa specie di grotta però piena d'acqua e non sapevo se era tipo un'ustanza per raccogliere l'acqua che magari era più punita ed ora è sporca nell'antichità oppure se l'hanno ritrovata così e si è riempita d'acqua non lo so però penso che sia un'ustanza mi è sembrata strana però ora andiamo avanti ora insieme andremo a vedere il teatro che si trova qui che però non possiamo entrarci come stiamo facendo qua perché è chiuso per i lavori e ora andiamo questi resti sono tutti stati ritrovati tranne questo qui e quel muretto lì che è stato creato non è un resto però ora andiamo ecco qui qui aspettate che si vede bene camminiamo un po' e possiamo trovare il teatro l'antico teatro eccolo questa tra tutto quello che ho visto e questo è quello che mi è piaciuto e questo è quello che mi è piaciuto mi ha affascinato questo teatro e qui c'è sempre la spiegazione perché dappertutto c'è la spiegazione ecco il teatro era così con qua delle scale tipo delle serie non so bene e questo appunto era il teatro allora oggi vi ho fatto vedere appunto questo sito archeologico e spero che vi sia piaciuto se vi è piaciuto mettete like e se non vi siete iscritti al canale fatelo subito e se avrò almeno tantissimi pollicioni in su andremo a vedere un altro sito archeologico insieme a voi ciao ciao